Scommetti che adesso il barista hater impazzisce? Guarda eh! Sapevi che al bar il caffè macinato per estrarre l'espresso va pressato in modo preciso e corretto rispettando una tecnica e una routine ben definite? Segui fino alla fine! Tanti in un mio video precedente dedicato a questo tema hanno commentato in modo banale e a volte anche arrogante mettendo in dubbio tutto ciò che noi formatori spieghiamo con impegno e in maniera molto dettagliata e precisa. È arrivato quindi il momento di chiarire qualsiasi dubbio innanzitutto sulla corretta pressatura del pannello del caffè e poi su tutta la routine che porta in tazza all'estrazione di un espresso perfetto. Una volta macinato al momento il caffè direttamente all'interno del filtro questo va distribuito molto bene e posizionato il pressino e livellato in maniera tale da pressare in un piano perfettamente dritto va scaricato una forza di 15-20 kg al centro del pressino in maniera tale che la forza si distribuisca in maniera omogenea su tutto il letto del caffè. L'obiettivo è quello di creare uno strato compatto e lineare nel quale abbiamo tolto l'aria tra un granulo e l'altro affinché l'acqua ad alta temperatura e pressione passi in maniera omogenea attraverso il letto di caffè. Se sbagliando dovessimo pressare con troppa forza o poca o addirittura con il pressino in obliquo rischieremo che l'acqua passi in maniera disomogenea attraverso il pannello di caffè magari da una parte in modo lento e dall'altra velocemente. Quindi per riuscire a mantenere equilibrio sia di gusto che di olfatto dobbiamo pressare perfettamente il nostro pannello di caffè. E togliamo l'ultimo dubbio a tutti quei baristi haters che hanno commentato nei video precedenti dicendo che non c'è tempo in un bar affollato di fare il purge e quindi erogare dell'acqua dal gruppo erogatore scaricare i fondi, pulire bene il filtro, macinare al momento, livellare e pressare in modo corretto perché basta automatizzare tutti i passaggi al fine di portare qualità in tazza. Parola di un Guinness World Record! Stop!